buon pomeriggio cari amiche e cari amici siamo in partenza la sciarpa è pronta si va a san siro si gioca inter milan questa volta no prima vi dico vi chiedo sempre di iscrivervi al mio canale youtube attivare la campanella mettere il vostro like ai miei video e iscrivervi al canale youtube di carlo pelle gatti per far qualcosa di diverso la colonna sonora sottofondo spero che non non vi darà sicuramente fastidio ho messo la mia voce in un derby indimenticabile 21 febbraio 2004 dopo il primo tempo stavamo sotto 2 a 0 e allora parliamo di questo derby un derby che il milan affronterà con scendere alla voce quando realizzeremo il gol in televisione il milan attenzione yondal thomason uno a due e dicevo il milan affronterà con megnan con calabria teo hernandez centrali saranno chier esoterismo chier come sto tirando chier con di fianco a lui ciao loftus chic krunic e reinders a formare la il reparto di centro campo e là davanti giocheranno giro con a destra pulisic a sinistra leao il milan affronta questa partita in situazione psicologica come rinter del resto perfetta in testa la classifica sta bene ma attenzione perché sta correndo in verso la porta cacca attenzione perché fra poco cacca ruberà il pallone e quindi bisognerà far scendere la voce in questo video emozionale abbiamo già detto tanto abbiamo già detto tanto di questo derby dicevo che il milan affronta attenzione perché forse sta venendo avanti e siamo due a due dicevo affronta in situazione psicologica perché non devi già andare al recupero non deve essere già il derby dove tu non devi recuperare anzi puoi tentare di allungare se ci riesci cosa vuol dire l'allungo è finito il campionato al 16 settembre no non è finito il campionato al 16 settembre ma sei certamente in posizione psicologica molto forte non è facile non sarà un derby facile pioli non vuole sentir parlare dei derby passati ha ragione però tutti noi l'inizio lo soffriremo un pochino perché ricordiamo come sono stati tribolati gli inizi delle delle partite delle lu delle ultime partite adesso il milan viene in avanti in questo mio in questo mio colonna e attenzione perché siamo sul 2 a 2 siamo sul 2 a 2 e toldo ordina la barriera il milan ricordate che quel campionato 2003 2004 sarà un campionato che vedrà il milan portare a casa il numero 17 poi arriverà il 18 di allegri e il 19 di stefano pioli ed è incredibilmente l'ultimo l'unico campionato che vincerà carlo ancelotti che invece in europa è stato sublime fra semifinali finali e finali e soprattutto coppe che si alzano ma il milan viene avanti ancora io avevo detto esoterismo attenzione l'avevo detto l'avevo detto volevo gasarvi con questa vittoria lo chiamavo ancora effetto serra non lo chiamavo ancora willy wonka willy wonka il re del cioccolato willy wonka willy wonka è sempre il più acclamato e mettiamo la pausa io ho tutti i gol dal 1982 fino al 2018 perché poi sono arrivati social sono già collezionati in pratica ho tutti i gol dal 2000 dal 1982 al 2018 2019 tutti i gol del milan tanti ovviamente dall 82 con la mia voce e quindi ogni tanto signori lo 2003 2004 quando vai a vedere scevchenko i gol di scevchenko in zaghi cacase è da mal di testa ma adesso il milan sta tornando a quei livelli non è facile però sta incominciando a comprare giocatori sempre più qualitativi lao potrebbe giocare in quella formazione parliamoci chiaro reinders potrebbe giocare in quella formazione parliamoci chiaro avevamo dida avevamo abbiati ma megnan potrebbe giocare in quella formazione e faccio loro un grande complimento lo stesso girù è un giocatore di grandissimo livello aveva scevchenko in zaghi e quindi il paragone è un pochettino difficile da portare avanti però anche lui è un altro giocatore di grandi livello in attesa che ciò che gli altri salgano di di condizione psicofisica però tornando al derby dicevo che sono tranquillo lo vado ad affrontare la cosa peggiore e con pioli tutto sommato non è quasi mai capitata è quella di inseguitore perché ripeto tre anni fa e due anni fa il milan è parito alla grande l'anno scorso non ha potuto partire alla grande perché perché c'era il napoli che conosceva solo un verbo anzi un sostantivo vittoria e quindi bastava un pareggio per rimanere indietro è una partita che deve farci che deve farci ancora deve deve confermare la qualità della squadra la caratura migliore della squadra è una squadra che cresce sempre a livello soprattutto grazie al lavoro di pioli cresce anche molto a livello di schemi perché sono schemi imprevedibili poco identificabili e però la il banco di prova ideale prima delle sette partite dove affronteremo tra le altre la lazio il newcastle e il paris saint germain è indubbiamente l'inter a proposito di champions league io ho intenzione ve lo dico già di porre una domanda molto chiara a stefano pioli lunedì quando ci sarà la conferenza stampa usciamo un attimo dal campionato e ritorniamo immediatamente io ho visto il borussia ho visto giocare il borussia dormont ho visto il newcastle ho visto ieri il paris saint germain paris saint germain è mbappé il paris saint germain è mbappé la difesa è imbarazzante il centrocampo nulla di che signori il milan deve 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 puntare ad arrivare primo nel girone di champions league a tutti i mezzi le squadre avversari hanno il nome uno della premier league l'altro il paris saint germain che è quarto dietro il monaco che deve ancora giocare dietro il nizza che l'ha superato in attesa del marsiglia e domenica prossima c'è marsiglia paris saint germain è quarto il paris saint germain dietro il nizza che è una buona squadra allenata alla grande da francesco farioli l'ho vista ieri tic 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 il paris saint germain di luiz enrique non ci ha capito nulla vive sulle grandi iniziative di mbappé perché mbappé è or category però la fortuna ecco perché leao è stato bravo a rimanere perché leao è circondato da un'organizzazione di gioco è circondato da schemi precisi è uno che fa parte e va a esaltare gli schemi non è leao e basta paris saint germain e mbappé e basta non c'è nient'altro il il nizza ha lasciato lì con i suoi touram grande partita del fratello del giocatore che il milan affronterà oggi ha lasciato lì almeno due o tre gol due o tre belle parate di donna rumma che i suoi gol nulla poteva fare anche se il terzo gol è beffardo ma è una palla che è finita proprio vicino al panno quindi il milan ha le possibilità ma tornando al derby dobbiamo pensare al derby siamo pronti andiamo vedremo il milan soprattutto come inizierà la partita quello è fondamentale ma più che inizierà la partita come reagirà al primo attacco dell'inter perché in questo caso serve sicurezza e dobbiamo mettere il milan deve mettere deve intimorire l'inter l'inter è una squadra con diverse con diverse frecce che dan fastidio nella sua faretra il danfris e il di marco hanno sempre impensierito i tagli di cialanogro hanno sempre impensierito però l'inter si trova contro una squadra nuova come schemi come modo di impostare come giocatori e quindi attenzione quindi è una è un duello sottilissimo una sfida sottilissima e per questo affascinante e per questa straordinaria e per questo siamo tutti là è inter milan ci sarà molto nero azzurro ci sarà molto nero azzurro quando poi ci sarà milan inter ci sarà molto rosso nero vediamo le scenografie che sono spettacolo nello spettacolo signori la sciarpa è qui l'esultanza è là chiudiamo con l'esultanza ve lo tengo ecco l'esultanza per il gol di clarense edorf e speriamo che sia un derby che ci regali quelle emozioni magari senza soffrire solo 0 a due che nessuno avrebbe voglia però indubbiamente è stato un derby che io vi ho voluto così tenere come sottofondo e attenzione esotericamente quando Kier salirà in area vediamo bisogna tirare bisogna pensare bisogna credere bisogna avere fiducia bisogna esorcizzare il destino e pensare a un gol di simone punto su quello vai simoncino vai simoncino se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale youtube di carlo pellegatti e forza lotta vincerai e derby siamo là in testa vediamo di rimanerci ciao 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 ciao